Hai involucrato solo per questo? Vito, sei un insensore. No. Noi non siamo uomini. Siamo più che uomini. In questo mondo quel genere di cazzate serve solo a una cosa. Fatti ammazza. Allora... Sei pronto per il tuo destino? Chapter 5 E' tutto inutile. Non accetterà mai di venire con te. Posso convincere. Abbiamo impronto le regole, pur lei non porta altri. Owen. Sono io. Che ci fai, sveglia? Stavo cambiando le garze a Yara. Incredibile, già in piedi. Le iene... non scherzano. Perché stanno litigando? No, vaffagulo, Yara! Io non ti lascerei mai! Lev vuole restare a Seattle. Ma Owen li ha invitati a Santa Barbara. È tipico di Owen. Ormai l'avrai convinto a non partire, giusto? In realtà vado con loro. Ma non se vieni tu. Cosa? Lui si sarà anche bevuto la tua sceneggiata. Però io no. Di che sceneggiata stai parlando? La grande assassina di Yene cambia idea e si converte. Non c'entra, Owen. Vero? Senti, ho fatto degli errori. Tu sei solo una stronza, Abby! Lo sei sempre stata. Non sei cambiata. Vuoi aiutare quei ragazzi? Esci dalle loro vite prima di rovinarle. Noi! Noi! L direi.. Com��ata! Abby! Bella! Bella maglia. Stai... Stai bene. Il tuo braccio... va... un po' meglio di stamattina. L'Ev si è convinto. Lo farà. Mi potresti aiutare a cercarlo? È abbastanza agitato. Certo. È corso via di qua. Lev! Lev! Torna qui, per favore! Perché Lev non vuole andare a Santa Barbara? È preoccupato per nostra madre. Per cosa le succederà a causa nostra? E fa bene? No, ora deve pensare solo a salvarsi. Cosa rischia tua madre? A volte i genitori sono chiamati a espiare i peccati dei figli. Ma lei è molto devota. Non avrà problemi. Esiste un modo... Per aiutarla. Non accetterà mai di partire. Questo è certo. Ma non so cosa potrebbe fare a Lev. Lev! Lev! Mi dispiace! Lev, vieni fuori! Lev! Lev! Dai, Lev! Vieni qui! Lev! Guarda. Chissà se l'ha visto. Lui adora gli squali. Adora gli squali, ma odia l'oceano. Ti ha raccontato molte cose. Sì, la paura di morire fa miracoli. Sei stata coraggiosa. Non direi. Non so come ringraziarti. Non devi. L'ho fatto per me. Lo senti? Lev! Ehi, segui. Tranquilla. Tranquilla, vuole solo giocare. Ehi, bella. Cos'hai lì? Non ti fa niente. Ok, guarda. Vai, prendilo. Forse ha ancora voglia di giocare. Ok, un'altra volta. Sì, veloce. Vuoi provare? Non credo sia una buona idea. Non proverà a mordermi, vero? No, promessa. Posso rifarlo? Lei non chiede altro. Wait segundos. Vuoi? 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 Leve! Perché fa così? Pensi sia possibile che convinca tua madre? Se l'avesse vista in quel modo, l'avrebbe strangolato a mani note. Che cosa ti ha detto? Beh, non molto. So che alcune persone lo chiamano Lily. Per molto tempo non riuscivo a capire perché volesse mettere in dubbio le leggi, le tradizioni. E quando, quando mi rivelò i suoi veri sentimenti, io gli rispose di tenerli nascosti. Perché speravo fosse solo una fase. Mi è sembrato sereno per un po'. Ma poi si è rasato i capelli. Come fanno gli uomini. Era un suicidio. E siete fuggiti. Prima l'ho insultato. L'ho colpito. Dio, che stupida. E io ho un'idea. Lo tiriamo su di morale? Vieni. Perché si è deciso proprio ora? A rasarsi, intendo. La settimana scorsa ha conosciuto il suo ruolo. Voleva essere un soldato come me. Ma la comunità l'ha offerto in moglie a un anziano. È tradizione. Povero Lev. Dov'è Santa Barbara? È in California. Dov'è la California? Sì, ecco, vedi... Qui c'è Seattle. E... Questa è Santa Barbara. E la nostra isola? È troppo piccola, ma sarebbe qui. È lontana. Già. Bene. Deve essere rimasto qualcosa qui in giro. Queste magliette non sono granché. Niente male. Vedi qualcosa che ti piace? No. Cerchiamo ancora. E questo? È perfetto. Me l'ha torto, sai. Sei una bella persona. Non mi conosci. Quanto basta. Abby! La smetti di rubare la mia roba, ti prego. Scusa, non sapevo che tutto nell'acquario fosse tuo. Sì, bene. Il mio acquario, le mie cose. Scherzavo. Serviti pure. Tu no. Hai visto Lev? Sì, là nel corridoio. Posso parlarti? Ti raggiungo. Non ha capito che scherzavo. Non ci so fare. Già. Tu vai forte, invece. Allora... Vieni a Santa Barbara, vero? No, non posso. Perché? Lo sai perché. Senti, troveremo un modo. È troppo tardi. No, no, non è vero. Lo so. Lo so che è un vero casino. Lo so. Ma possiamo essere felici. Abby... Nessuno ce lo impedisce. Sentito. Lev! Torna indietro! Lev! Che sta facendo? È andato a cercarla. Cercare chi? Sua madre. Lei lo ucciderà, Abby. La barca è pronta. Non ancora. Quanto tempo ti serve? Ehm... Qualche ora. Cazzo. Lo raggiungeremo. Con una delle barche al porto. Ehi, l'ho appena operata! Sto bene. È l'unico modo. Vengo anch'io. Owen! Stanno andando sull'isola. Appunto. Non posso farla andare da sola. Sì, invece. Posso aiutare? Sì. Restando qui, aggiustando la barca. Hai le tue priorità. Yara, andiamo. Ecco il porto. Come stai? Tutto bene. Ok. È una base di luci? La usiamo come molo per le barche. Ok. Oh. Non ce la farò mai. Vieni. Ti aiuto io. Faccio io. Andiamo. Attenzione. Mi pensi di arrivare al tuo villaggio? Lungo la costa ci sono punti ciechi per l'attacco. Poi seguiremo le strade secondarie. Sono sicura? È la via meno dispensa. C'è qualche speranza che Lev cambi idea. Nessuno. È troppo stimato. Ma ha capito cosa lo aspetta? Lo devo fare. Ma un dodo lo devo fare. Di lei. È la sua mamma. Sì. Lei non la vede così. Come arriviamo al porto da qui? Dobbiamo fare il giro. Sì. Da questa parte. Cerca di non bagnare il braccio. Sì. Pasci. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no la strada è andata merda ok qual è il tuo piano dobbiamo entrare nel partice vai vai Menni Che c'è sta facendo? Merda. Tira verso di noi. Preparati. Dentro! Saliamo sul ponte! Sì! È avicato! È avicato! È avicato! Guarda avanti! Avanti! Ok, vado! Lo stronzo non la smette! Lo so! È avicato! È avicato! È avicato! È avicato! Dobbiamo arrivare al ponte prima che scappi! Sì! Non vedo l'ora di peccare il bastardo. Abbie, qui! Merda. Vai, tutto. Vai. Dov'è andata? Non può essere lontano. Giù! No, il diavolo! Ehi, se sta spicci a muoto! Eccolo là! Vai, 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 vai! Tienilo impegnato! Sei fregato, pettacolo! Sei fregato, pettacolo! Ehi! 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 Lo vedi? Lì! 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 Forza! Forza! Costringiamola a uscire! Tutto ok? Per ora! Cosa? Ci aspetta. Di qua. Se porti il bastardo a Isaac, recuperi la sua fiducia. Vediamo come sarà con Chatton da fine. Menni. Menni. Cerchiamo di… Vedremo! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.